ragazzi siamo usciti adesso dall'hotel spero che mi si veda perchè siamo in contraluce e non vedo nulla comunque adesso siamo qua siamo a miamari e adesso andiamo di stazione perché andiamo a cattolica ci facciamo un piccolo viaggetto a cattolica facciamo un giretto di e tra poco abbiamo un treno qua in stazione di milamare la cosa che mi fa più incazzata è che ieri se la potevamo liberamente stampare i biglietti proprio in stazione solo che l'unico problema era praticamente la macchinetta la macchinetta che aveva lo schermo bloccato e non partiva quindi vedremo le falcelle adesso è arrivato il treno che ci porterà a cattolica e adesso non viene spostato e poi la pezta è cosa già aperta e saliamo su ok ci siamo inizia il viaggio verso cattolica ci manca ancora la stazione di riccione e poi dopo ci siamo arrivando a riccione ragazzi qui sul ponte che sta lì davanti adesso dovremmo entrare aspettate che guardo non vedo ancora la stazione però hanno annunciato adesso che stiamo entrando a riccione ecco la nostra stazione è quella dopo cioè cattolica sono giovani da bici e poi c'è un po' di fasi con il riflesso sui vetri ed ecco i giovani ci siamo a riccione a riccione a riccione ok ci vediamo nella prossima clip di cattolica dopo 13 minuti di via ci siamo arrivati a cattolica e ora lasciamoli qua Ragazzi è terminata da fuori Questo è il fuori della stazione Blog finita, ciao Ragazzi sono di nuovo qui Dopo una pausa a bar Ritorniamo Alla stazione di Cattolica E adesso procediamo in direzione a Riccione Per un'altra pausa E poi ritardiamo a Miramar Buona, a dopo Ragazzi adesso noi siamo in stazione di Cattolica Spero mi si veda la mia faccia perché da qua non vedo bene Ecco Allora guarda Ci biglietti qua Però ci fermiamo prima a Riccione Per un'altra pausa Poi ritardiamo a Miramar Come vi avevo getto prima Al di fuori di questa stazione Ma che è il giallo per passare? Questo o quello? C'ha ben tre binari C'ha questo Poi quello E alla fine c'è anche questo Vabbè Allora adesso sono le 16.51 Il treno arriverà tra 10 minuti Il treno arriverà tra 10 minuti Quindi è 5.01 A dopo Eccolo qua che il treno è qua Casino immenso il treno C'è stato davanti a noi C'è stato davanti a noi Eccolo qua che il treno è qui Ma forse Allora Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Ed eccoci Ed eccoci Ed eccoci Il finestrino aperto Vabbè Io lo lascio aperto E adesso Andiamo Verso Riccione Ragazzi Voi non ci crederete Ma il mio treno E' l'unico segnato con il ritardo L'unico Incredibile Alla prossima Clip Il nostro treno dopo 5 minuti di ritardo E' arrivato Stiamo per abbiarci adesso Verso Miramare Quindi diciamo Ci siamo Alcini Allora Per questa volta Perché poi Non ci sarà Più occasione Ciao Così Non, ci sarà Poi ci sarà Cosa qui c'è pure la carta qui c'è pure la carta la chiamiamo a due si è vera la chiamiamo a due perché siamo partiti dalla luna chiamiamo a due almeno qui è il primo che è il primo qui c'è la fase dell'apertura di emergenza che è questa si è vera ok provate quel pezzo di strada siamo praticamente il primo bivaldo della giornata questa volta non è un top ma è comunque un bivaldo c'è un altro tipo di trama due piani solo che un regionale quello che invece è un sfm della linea 2 allora di qua non dobbiamo offendere perché dobbiamo scegliere di là non capisco perché c'è il flash del telefono acceso mi sembra che è proprio disattivato ma non capisco qui c'è un'altra apertura di merce c'è il rilevatore di nascimento qua premere e mantenere premuto il pulsante per parlare con l'operatore ogni abuso verrà pulito basta, occupato, pronto e poi c'è il microfono dovremmo essere arrivati già adesso penso non capisco non capisco comunque adesso è arrivato in terreno è un colpo che mi ha passato tutto in davanti poi non capisco che non capisco non capisco non capisco anche perché ci vuole la banda di luce non capisco si deve stare senza acqua in alto allora siamo andati da Miramar fino a Cattolica poi da Cattolica sosta a Riccione e da Riccione a Miramar ecco ecco un po' spero che si sia sentito la mancia un po' un po' allora comunque di qua non si esce si esce di là aspetta ma è dopo aprire quando ci fanno sì 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 seconda classe dell'Italia ora ci siamo prima di scendere a tenere scursione ecco ci siamo a me da lì adesso ci siamo 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 appena tornati a Miramar dunque adesso ragazzi ci dirigiamo verso l'hotel io vorrei sperare questo un po' un po' Grazie per la visione!